Anche lì è stata una grandissima soddisfazione perché anche la mia prima volta che andavo in America è stato per me tutto nuovo e confrontarmi con grandi squadre come Arsenal, Benfica è stata una grande emozione e è un bagaglio che te lo porterei dietro a te per sempre. No, negli Stati Uniti diciamo che contro l'Arsenal c'erano dei veri campioni a giocare, la casetta, Boomeyang, Ozil, è bello marcare giocatori di quel talento ma anche l'ultima col Parma c'era Gervini, attaccanti forti che è sempre bello. Era la mia prima in campionata al Franchi dopo la Coppa Italia, sicuramente è una grandissima emozione e è stata tanta roba. Sicuramente è stata una partita molto intensa e molto emozionante dove il mister ha cambiato molti giocatori, ha dato fiducia anche a noi giovani quindi le dobbiamo tanto al mister. È stata una partita a due facce, il primo tempo è stata una partita abbastanza combattuta dove siamo stati abbastanza lenti nel giro al palla, nel gioco, proprio al secondo tempo ci siamo rialzati, abbiamo tolato il pareggio e poi secondo me meritavamo anche qualcosa in più. Sì, ogni tanto c'ho il vizio di salire, quando c'ho palla mi prendo e provo a salire. No, sì, viaggia più veloce però almeno è finito il caldo che ci ha assistito fino a qualche settimana fa quindi ormai ci abituiamo anche a questo clima. Sì, sicuramente il Cagliari è una squadra molto forte, il centrocampo in attacco sono giocatori molto bravi, quindi noi dovremmo stare attenti e prepararci al meglio. Sì, sennò dobbiamo ancora preparare bene la partita, oggi pomeriggio incomincieremo a prepararla. No, ci aspettano una partita sicuramente ancora più difficile di Parma perché affrontiamo una squadra che è molto in forma però sicuramente noi non avremo paura, andremo là per cercare di fare il meglio possibile e vedremo come andranno le cose. Sì, sennò, Ander 21 è sempre una grandissima emozione indossare la maglia azzurra. Ora dopo Cagliari ci aspetteranno altre due partite di qualificazione e speriamo di essere convocati e di poter fare al meglio anche queste altre due partite. No, ma tutte queste competizioni sono sempre grandissime emozioni e ti servono a far imparare tanto tanto. Anche il Mondiale è stata una grandissima vetrina per me, sono arrivati anche dei ottimi risultati direi e è stato tutto bello. Due o tre anni fa ero io che guardavo i ragazzi giovani in prima squadra e ora magari solo loro che guardano noi e sperando di poter riuscire anche loro ad arrivare in prima squadra. No, diciamo che due anni fa guardavo già Federico a Chiesa, che lui era già in prima squadra, altrimenti anche altri giocatori. Questa Fiorentina diciamo che il mio giocatore preferito è Sergio Ramos. Devo iniziare a lavorare più sulla struttura fisica dalla parte superiore, devo incominciare a fare più palestra, poi ovviamente devo stare come sempre più attento in campo, serve sempre tanta concentrazione e imparare giorno dopo giorno.